Cosa cambieresti nel mio look? Nel tuo look l'orologio fluorescente. E nel tuo lavoro ci vuole fantasia, da dove prendi l'ispirazione? Mi guardo spesso in giro, per le strade tanto e qualche volta anche dagli altri giornali. Cosa preferisci per fare ricerca? Le mostre, il cinema. E quando e dove hai cominciato? Ho cominciato a Vogue Bambini tanti anni fa. E cos'è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro? Mi piace scherzare con i bambini mentre lavoriamo insieme e creare uno spirito di solidarietà con loro.